L'istituto tecnico Tito Cerbo, nell'ambito della propria offerta formativa extrapolicolare, ha proposto un corso di tecnica della navigazione e conoscente delle imbarcazioni, finalizzato anche un conseguimento facoltativo da parte degli allunni della patente nautica. Il progetto ha riscorso interesse e partecipazione da parte degli allunni, molto motivati dalla possibilità di sperimentare percorsi formativi innovativi e lavoratoriali, che spazia da temi naturalistici, cambiante e marino, a competenze tecniche precise e certificabili. La patente nautica Il progetto verrà presentato anche ai partenari filandesi nell'ambito del Comenus Regio Netto di Siatano. Il progetto verrà presentato anche ai partenari filandesi. Il progetto verrà presentato anche ai partenari filandesi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.